Ben ritrovati ragazzi, se avete studiato e soprattutto capito ciò di cui ci siamo occupati nelle ultime due lezioni e ne approfitto per dirvi anche a voce, non soltanto per iscritto, che per qualsiasi dubbio, chiarimento, anche per le domande che vi possano sembrare più semplici, contattatemi, scrivetemi, perché non c'è altro modo in questo periodo per venirvi incontro, ma noi insegnanti siamo qui per questo motivo, quindi non intimiditevi. Ecco, dicevo, se avete afferrato i concetti visti siete pronti per affrontare il passo che faremo avanti in questa lezione, occupandoci di un argomento che è strettamente collegato a quello che abbiamo visto sino ad ora. Adesso, se vi chiedessi che cos'è una città, credo che non rispondereste, come avreste fatto prima, semplicemente un insieme di case, di palazzi, di vie, di piazze, ma probabilmente vorreste trasmettermi l'idea di una città inserita in un tessuto, in un insieme di contatti. Avete visto che per ogni città c'è un'area urbana, che si chiama area metropolitana, se la città è una metropoli, che quando le città o metropoli cominciano a essere strettamente legate, si espandono e si connettono tra di loro, si parla di conurbazione, che l'insieme di conurbazioni dà origine a una megalopoli. Insomma, credo, spero, abbiate tutti capito che quando si parla di città in Europa, che è un continente così strettamente, fortemente urbanizzato, ricco di città, si parla di connessione. Cosa vuol dire connettere? Connettere, cioè con cum dal latino insieme, legare, creare dei collegamenti. Ed è proprio quello di cui oggi parleremo occupandoci dei trasporti, che sono indubbiamente un aspetto fondamentale della vita economica quotidiana del mondo di oggi, tanto più di un continente urbanizzato come l'Europa, appunto, e che non sarebbero possibili se non ci fosse un tessuto così fitto come quello urbano di cui abbiamo parlato. I tipi di trasporti possibili, naturalmente la classificazione in base ai mezzi con cui vengono compiuti, sono terrestre, via terra quindi, che può essere trasporto su gomma, quindi automobili o camion, o trasporto ferroviario, marittimo e fluviale, e qui introdurremo la parola idrovia, cioè via d'acqua, potete già immaginare, per quello che abbiamo studiato in storia, vi suggerisco giusto un collegamento, che i trasporti via fiume, oltre che via mare, sono tra i più antichi realizzati, proprio perché quando esistevano, e tuttora esistono, grandi fiumi navigabili, è molto più semplice trasportare sul fiume merci particolarmente pesanti, e di questo si iniziò a prendere consapevolezza molto presto nella storia dell'uomo. Abbiamo visto come dopo l'anno 1000, in Europa, nel Medioevo, nella fase di sviluppo, i trasporti via acqua furono fortemente sviluppati. L'ultimo tipo di trasporto, naturalmente, è quello aereo. Il vostro testo inizia la trattazione alla pagina 166, nella quale, come vedete, ho evidenziato, quindi vi pongo come riferimento, le parti più importanti. Qui, in realtà, vedete quasi tutto, perché il testo è particolarmente sintetico e denso, però più avanti vedremo, selezioniamo i nomi di alcune città, anziché altre, quindi prestate attenzione a quello che, appunto, ho scelto. Ecco, il sistema europeo dei trasporti, primo paragrafo, vi fa un po' un'introduzione, ricordandovi quali sono, qual è, di fatto, la zona dell'Europa più fittamente attraversata da trasporti, soprattutto, in questo caso, inizia con quelli via terra, quindi strade e autostrade. Per ora concentriamoci, questa è la cartina che vedete anche alla pagina 166, sul simbolo che nella leggenda indica l'autostrada, quindi questo doppio canaletto rosso. Ecco, vedete subito che, a colpo d'occhio, si capisce come la zona più fittamente attraversata dalle autostrade, ma anche dalle ferrovie ad alta velocità, questo altro riga un po' più scura, su cui torneremo, si concentra nettamente nell'Europa centrale e settentrionale, mentre la parte più ad est, la parte orientale, sembra quasi un po' esclusa da questa fitta rete di collegamenti. Questo sicuramente è dovuto al fatto che, in questa area d'Europa, le vie di comunicazione sono meno fitte, nel senso che da pochi anni, come il vostro libro vi ricorda, si è verificato un movimento intenso di merci, di persone, e quindi, diciamo, la realizzazione di grandi vie di comunicazione è un po' più arretrata, mentre da sempre nella parte centro-orientale, comunque occidentale, scusate, centro-sentrionale, volevo dire, occidentale dell'Europa, le comunicazioni sono da sempre storicamente più intense. Questo quindi ci fa capire che è vero che il paesaggio influenza la realizzazione di strade e dove è montuoso sicuramente crea più problemi, ma non è il fattore decisivo. decisivo. Sapete che nella zona dell'Italia del nord, per esempio, della Francia del sud o anche della Germania del sud, ci sono molti, a molte alture, la zona alpina l'abbiamo studiata, mentre invece proprio in quest'area orientale ci sono grandi estensioni pianeggianti. Certo, è vero che sarebbe ed è più facile realizzare vie di comunicazione in pianura, ma non sempre, come vi dicevo, questo è ciò che decide, perché è la consistenza dei trasporti che determina la necessità di creare vie di comunicazione. Infatti, come ora vedremo, nelle aree montuose sono stati realizzati tunnel, importanti passaggi ferroviari, anche ponti di grande consistenza sopra tratti di mare. Quindi le barriere, gli ostacoli del paesaggio, sono stati superati dall'ingegneristica laddove era necessario creare e garantire trasporti efficaci. A proposito dell'Italia, come il testo ricorda nel primo paragrafo, c'è da dire che purtroppo il trasporto su strada è sempre quello nel nostro paese più sviluppato e questo ha serie conseguenze negative, ovviamente, soprattutto se pensate al traffico e all'inquinamento. A proposito di rete ferroviaria, il libro vi ricorda che lo sviluppo nella zona d'Europa che abbiamo visto più intensamente attraversata dalle ferrovie è nord-sud, si parte da Rotterdam che abbiamo già studiato nella Randstad, quindi nella conurbazione olandese, raggiungendo poi, come vedete, anche l'Italia. Nel caso dell'Italia, le principali linee ferroviarie si sviluppano sulla pianura padana e lungo le coste, sia dell'Adriatico a est che del Tirreno a ovest. Interessante il discorso che il libro affronta alla pagina 167. A proposito delle principali e grandi realizzazioni ferroviarie, certamente la ferrovia oggi propone anche una grande modernizzazione della rete. Cosa vuol dire? Sono stati realizzati grandi opere di ingegneria che permettono il trasporto ad alta velocità e il trasporto su tratte lunghissime. Questi sono due discorsi leggermente diversi che però in realtà spesso si associano. Cosa si intende per modernizzazione della rete a proposito di grandi tunnel? Ecco, sono stati realizzati tunnel ferroviari per unire paesi lontani o per superare barriere paesaggistiche. Il vostro libro ricorda subito il più importante, l'Eurotunnel, cioè quel tunnel ferroviario che unisce la Francia e l'Inghilterra, attraversando il canale della Manica, naturalmente sotto le acque. Qui vi mostro, giusto per vostra curiosità, una semplificazione della struttura di quest'Eurotunnel che è fatto da due gallerie ferroviarie, quindi in Eurotunnel si va solo naturalmente con le ferrovie. È possibile caricare le macchine sopra gli shuttle, appunto, vagoni specifici, per poter attraversare la Manica in questo modo, ma le gallerie sono esclusivamente ferroviarie. Quella in mezzo più piccola è una galleria di servizio. E qui vedete l'immagine di un tratto d'ingresso all'Eurotunnel. Poi il libro parla di un'altra grande realizzazione di cui vi fa vedere anche la foto, il ponte dell'Oresund, che è un ponte che collega la Danimarca, Copenhagen, la sua città, la capitale, con la Svezia. In che modo? Il libro non lo diceva, me lo mostro per curiosità. Attraverso un tratto, che qui non vedete perché è appunto sottomarino, di tunnel, sott'acqua, la realizzazione di questa isola artificiale che connette chi esce dal tunnel sottomarino alla parte di ponte che è quella che vedete qui. Quindi Danimarca è qua, la Svezia è qua. Il ponte è lunghissimo, sono quasi 16 chilometri. Ecco qui vedete il tratto del ponte che parte dall'isola artificiale e qui un'altra immagine dell'isola artificiale del ponte in lontananza. Il vostro testo completa ricordandovi un altro tunnel, quello del San Gottardo, che collega Italia e Svizzera ed è il più lungo tunnel ferroviario di tutto il mondo, sono poco meno di 60 chilometri, e le parla anche delle linee ad alta velocità, cioè linee come Freccia Rossa, per intenderci, in Italia, che però è soltanto una delle linee europee, naturalmente, sulle quali i treni viaggiano velocissimi, raggiungono i 300 chilometri orari e permettono quindi di collegare sulle grandi distanze in tempi molto ridotti. A questa pagina vi ho sottolineato anche questa parte, che fa parte di un esercizio, a me interessa che provate a studiare per ricordare di cosa si tratta la parte che vi ho sottolineato, in cui si tratta dei cosiddetti corridoi ferroviari, rimanda alla cartina che abbiamo visto alla pagina 166. Con la parola corridoio, non soltanto ferroviario, in realtà corridoio, si intende quell'insieme di percorsi, in parte su strada, in parte su ferrovia e in parte anche via marittimo-fluviale, quindi considerando i porti, che sono collegate tra di loro in modo da creare una facile circolazione, soprattutto di merci, tra i paesi europei che vengono attraversati da questi corridoi. Quindi si tratta di un progetto europeo che favorisce, il vostro testo che dice, l'integrazione, quindi ancora una volta la parola connessione, tra paesi dell'Unione Europea. Per intenderci, senza scendere nel dettaglio, l'Italia è attraversata da quattro corridoi, alcuni dei quali ancora in completamento. Il vostro libro, la pagina 168, parla infine dei trasporti marittimi e di quelli fluviali. Qui vedete un'imbarcazione in trasporto naturalmente con questi container. Cosa sono i container? Sono contenitori molto resistenti e molto grandi, pensati per essere trasportati sulle navi, sui treni, sui camion, per essere poi trasferiti dall'uno all'altro di questi mezzi e viaggiare per trasportare le merci. Il vostro testo, la pagina 168, vi ricorda che il trasporto marittimo è quello più adatto per trasportare merci molto pesanti, non deteriorabili perché i tempi naturalmente di trasporto sono più lunghi e anche su distanze impegnative. E si basa su un sistema portuale, cioè un sistema di porti molto efficiente. Qui vi ho sottolineato le parti su cui concentrarvi nello studio dei porti elencati, studiamo Rotterdam, Londra e Hamburgo. Rotterdam e Londra li avete già ben collocati nelle conurbazioni, anche Hamburgo in realtà si trova in Germania ed è il più grande porto fluviale, ma al tempo stesso anche marino perché si trova sull'estuario del fiume Elba di tutta l'Europa. A proposito di navigazione fluviale, introduce al vostro testo il termine idrovie che è molto importante, cioè per idrovia si intende la via d'acqua, cioè l'insieme di sia tratti di fiumi naturali, naturalmente utilizzati per il trasporto delle merci e delle persone anche volendo, ma soprattutto qua si parla di merci, che i canali artificiali che vengono realizzati spesso per facilitare, per integrare questo sfruttamento dei trasporti fluviali già esistenti. Il vostro testo in particolare ricorda Reno, Danubio e Volga, li abbiamo già studiati, quindi li sappiamo anche collocare, ora comunque vi mostro una cartina per il ripasso, come i tre fiumi principali su cui il trasporto europeo di merci via fiume avviene. E qui vediamo Reno, ricordatevi la conurbazione renana, quindi tra Francia qui e Germania, conurbazione renana, città tedesca nella Valle del Reno, il Danubio, che comunque è molto lungo, vedete, e prosegue dove poi sfocerà nel Mar Nero, verso est, il Volga, che di fatto è il più lungo fiume europeo, quindi qua interessa la zona russa, infatti vi dice che nell'idrovia, che coinvolge anche il Volga, vi sono altri fiumi russi. E qui, giusto per curiosità, l'immagine di un canale nell'idrovia dell'area del Volga. Invece siamo in Italia, l'idrovia di un'area del Mantovano, quindi nell'area degli affluenti del Po. Due parole per concludere, siamo alla pagina 169, alla rete aerea. Questa è una mappa per renderci un po' conto dell'importanza di alcuni aeroporti rispetto ad altri in Europa. Naturalmente, nella seconda metà del Novecento, il libro vi ricorda, il traffico aereo è diventato fondamentale, soprattutto per le lunghe distanze, per i tempi più brevi che garantisce, naturalmente. Le rotte sono continentali o anche intercontinentali. Ecco, gli aeroporti che vedete con il puntino rosso più grande sono naturalmente quelli che compiono il ruolo di scali, anche internazionali, scalo, punto di partenza anche per passare da un volo all'altro. Più importante è Lione e Ginevra, quindi siamo tra la Francia e la Svizzera. Monaco, Francoforte, qui siamo in Germania. Amsterdam, Londra e Parigi. E poi, naturalmente, una diramazione di altri voli per altri importanti aeroporti. In Italia, i due più importanti sono Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa, dai quali appunto partono voli per tutte le destinazioni anche fuori d'Europa. Importante, il libro vi ricorda la creazione negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, in particolare negli ultimi 15 anni, delle scusate compagniere low cost che permettono i viaggi. a costi ridotti con servizi più essenziali, per intenderci Ryanair o EasyJet. Spero con questa lezione di aver completato un po' il panorama dei trasporti e vi assegno questa parte per lo studio. Mi raccomando, se avete dubbi, ancora una volta ve lo dico, contattatemi. Ciao! Ciao!